Secondo me il modo di far finire la memoria dell'Olocausto è nella beatificazione che se ne vuol fare, cioè la si isola, la si dice peggiore di tutti i mali, non la si relativizza mai, non si cerca mai di capire chi si comportò in un certo modo e perché, e così sparisce in una specie di nube di santificazione, questo è il modo per far sparire la memoria dell'Olocausto. Due volte direttore del Corriere della Serra e prima ancora direttore della stampa, dove è stato il mio direttore e ha fatto perdere i capelli a me. Sulla sedia delle parole c'è Paolo Mieli. Benvenuto. Eccoci qua. Allora, lo dirò più volte questa sera. Ma non è vero che avevi i capelli? No, ne avevi un po' però. Ma quali capelli? Era semplicemente che adesso quelli di lato me li taglio di più. Ma insomma, erano uguali, sì, ero più accettato. Era un piccolo riportino. No, non è vero. Però sei rimasto assolutamente identico, devo dire la verità, dopo 30 anni. Sì, quello è 30 anni fa. Mamma mia. Senti, no, semplicemente identico. Senti, dicevo, lo ripeteremo più volte questa sera, oggi è il sabato della riflessione, quindi del silenzio elettorale, quindi non parleremo di politica italiana. italiana, quindi non ti chiederò di scioglierti la cravatta, perché già sennò potrebbe sembrare un allusone, quindi teniamo la cravatta bella stretta. Allora, incomincierei con una definizione della Treccani. Tu sai che sulla Treccani esiste il mielismo, non so se possiamo mostrarlo, cioè quest'uomo è diventato un neologismo. Sostantivo maschile, il modo di fare e concepire il giornalismo, lo stile giornalistico di Paolo Mieri. Ecco, tu hai capito che cos'è il mielismo? No, mai, mai non me l'hanno spiegato. Ma più in generale credo che sia un modo di mettere insieme le cose serie e le cose facette, più scherzose. A me il neologismo, il mielismo non piace, però capisco a cosa si riferisce. Nel senso che quando io ho cominciato a fare il direttore della stampa, tanti anni fa, trent'anni fa, la cosa che mi faceva diverso da quelli che mi avevano preceduti è che mi colpiscono molto i dettagli irrilevanti. Guardavo la televisione, cioè apparentemente irrilevanti, secondo me quei dettagli dicono di più delle cose che normalmente sono pomposamente esposte da noi giornalisti. Il primo pezzo che tu mi mandaste a fare a Montecitorio era sulle canotte, perché all'epoca Bossi aveva esibito la canotta, anzi addirittura in quel caso era stato Craxi che in un suo intervento al congresso di Bari si era visto per il sudore in trasparenza sotto la camicia la canotta e questo mi mandò in giro per Montecitorio a chiedere a tutti i politici della Prima Repubblica che avevano già ben altri problemi, ma lei indossa la canotta o no? E la cosa incredibile, Paolo, è che tutti mi risposero, addirittura uno si sbottonò la camicia per farmi vedere la canotta, quindi già loro erano disposti al mielismo. Ma poi vuol dire qualcosa, vuol dire, siccome non è che l'Avvocato Agnelli usava la canottiera, il fatto che i politici, i suoi coevi, usassero ancora la canottiera secondo me voleva dire qualcosa e comunque le persone poi leggevano questo tipo di articoli, li leggono tutt'ora e quindi io ero tutto contento. Senti, vogliamo mostrare una foto di tuo padre, Renato Mierico. Nel 1949, quando nascevi tu, tuo padre dirigeva l'Unità. Ecco, tu ti consideri un figlio d'arte, un figlio ribelle o un figlio di papà? Nessuna delle tre cose, perché mio padre dirigeva l'Unità, che era il giornale del Partito Comunista Italiano, si può dire questo, no? Non mi pare che domani il Partito Comunista non partecipa alle elezioni. Ed era un incarico politico, cioè mio padre era un intellettuale molto serio, di Alessandra Deggitto, insomma, comunque era un incarico politico, non faceva il giornalista come me e te. Ribelle, sì, lo sono stato, ma non ribelle contro mio padre, sono stato ribelle nel 68, in quegli anni e il terzo, com'era? Il figlio? No, no, il figlio di papà, no, però in questo momento hai già risposto in qualche modo. Invece tu eri impegnato politicamente, tu a vent'anni militavi nella sinistra extra parlamentare. Quindi il 13 giugno del 71 firmaste anche tu quel famoso manifesto in cui si accusava il commissario Calabresi di fatto di aver ucciso l'anarchico Pinelli e l'anno dopo Calabresi fu assassinato e molti in qualche maniera dissero che quel manifesto era stato in fondo una sorta di istigazione. a compiere un atto contro di lui. Ecco, ti sei mai pentito, comunque hai mai riflettuto su questa firma? Pubblicamente, l'ho fatto pubblicamente. Una delle cose che contano di più nella mia vita è che Mario Calabresi, il figlio del commissario Calabresi in un libro celeberrimo che ha scritto sulla sua vicenda umana ha ricordato che questo mio pentimento fu uno dei pochi pentimenti. Però adesso che ne parlo con te e ho confidenza con te voglio dire una cosa a me stessa, contro me stessa, fu un pentimento tardivo perché venne molti anni dopo ed è facile pentirsi molti anni dopo. Penso che chi non lo fa mai. Sono contento di averlo fatto, sono contento anche perché gli altri, la stragrande maggioranza, non ha ritenuto di farlo. Vivrei più tranquillo e dormirei più sereno se l'avessi fatto prima, soprattutto il giorno dopo che fu ucciso il commissario Calabresi. anche se quel manifesto aveva molti attenuanti, non è che sostenevamo niente. Siccome era stato accusato il direttore di lotta continua per quelle frasi riportate sul giornale, in solidarietà con quel direttore le avevamo sottoscritte dicendo allora processateci anche noi. Quindi una cosa più complicata, ma il succo è quello che dici tu. Senti, la storia è la grande passione, l'altra grande passione della tua vita. Adesso esce il tuo timore che si intitola uscito Le verità nascoste e racconta 30 casi di fake news, che mi amore così, storiche, che tu smonti a partire dalla famosa congiura di Spartaco, di schiavi. Però è molto attuale, molto proprio da questa settimana, perché tu ci racconti anche la famosa epidemia di inizio del Novecento, la spagnola, che in realtà nacque in Kansas. Esatto. E allora perché la chiamarono spagnola? La spagnola, perché tutte queste notizie che noi diamo per assodate dalla storia sono tutte piene di imprecisioni o peggio, fesserie. La spagnola nacque durante la Prima Guerra Mondiale, alla fine, fu importata, come tu hai appena detto, dall'America, però su tutti i fronti non si voleva ammettere che i propri, tre quarti delle truppe francesi furono colpite dalla spagnola. Ognuno minimizzava. La Spagna, essendo neutrale, invece i giornali scrivevano liberamente e poi c'è un'epidemia di influenza. E allora gli altri trovarono comodo di abitarla alla Spagna alla quale incolpevole solo perché ne parlava. Solo perché ne parlava. E comunque questa epidemia fece più morti, io adesso non voglio essere il cicello di malogure, più morti della guerra. Fu una cosa devastante che poi per generazioni, poi tutto si è dimenticato ed è rimasta la spagnola per una cosa che è nata in Kansas. Penso un po' alla vita di rio. Comunque, vorrei tranquillizzare chi ci ascolta e più tardi sentiremo la dottoressa Laria Capua che ci darà delle informazioni anche che limiterà il panico che in questi giorni sta scorrendo per il coronavirus. Senti, c'è una storia nel libro che invece ha a che fare con il mito dei fascisti, del regime fascista come regime di uomini onesti. Ce lo racconti? Allora, nel 1975, quindi 30 anni dopo, anzi 40 anni dopo che era caduto, 30 anni, scusi, era caduto il fascismo definitivamente, Walter Chiari, un comico che era famosissimo, io lo dico perché non so mai se gli spettatori lo conosco o se ne ricordano. Un grandissimo raccontatore di Barzelletta. Un grandissimo raccontatore che però aveva militato nella Repubblica Sociale, cioè dalla parte di Mussolini, fece uno spettacolo a Genova, c'è ta medaglia d'oro della Resistenza in cui a un certo punto se ne uscì dicendo ma quando appesero Mussolini a testa in giù a Piazzale Loreto dalle sue tasche non uscì neanche un centesimo. Vorrei vedere se appendessero i politici di adesso cosa succederebbe. E venne giù il teatro, un'ovazione in una città antifascista e tutti rimasero colpiti perché aveva sfatato un mito. In realtà quando ne ho parlato sul libro l'ho scritto per dire che poi documentandolo ovviamente come faccio sempre perché un sacco di gerarchi fascisti avevano rubato eccome a cominciare da quelli più alti però questo episodio mi ha sempre colpito nel senso come nasconoci ti faccio un esempio ho incontrato di recente di Pietro su un treno e lui mi ha detto ma sai che la storia di Mario Chiesa che butti i soldi nel gabinetto non è mai non è mai è un altro caso non di Mario Chiesa e comunque erano nello sciacquone quindi protetti di sopra non dentro il gabinetto eppure ormai è diventata una cosa che tutti crediamo sia successa davvero come nascono queste cose? perché molto spesso adesso noi ci dividiamo in due da una parte lo storico dall'altra giornalista spesso quando siamo chiamati in emergenza a fare un articolo lo coloriamo con un particolare quello però poi rimane quel particolare sfida le prove se nessuno lo smentisce rimane la storia di Mario Chiesa che ha buttato i soldi nel water ma toccava forse a Di Pietro smentirlo e comunque poi gli altri giornalisti vedendo che quell'episodio tutto lo riraccontano finisce nei libri credo che sia finito anche nel manuale di storia sicuramente tutti i film su Tangentopoli fanno vedere un water compreso quello vediamo la foto dove c'è anche Paolo Mieri protagonista perché il direttore del codire della sera è in quegli anni di Mani Pulite e ti interpreta niente meno che Luca Zingaretti potete anche notare la somiglianza fra i due quindi tu potresti fare il commissario Montalbano in televisione senti ieri a Mondovì sulla porta di un'ex partigiana finita nei lagri è apparsa la scritta Judenir non so se l'ho pronunciata bene frase che comunque vorrei non pronunciare mai perché ricorda ahimè la notte dei cristalli ecco qui la domanda che ti faccio è banale ma poi spesso le domande banali nascondono i temi più profondi perché gli ebrei oggi tornano a essere un capo espiatorio perché è una cosa mai curata e qualcuno che ce l'ha con gli ebrei con i pretesti più vari perché i pretesti possono essere del passato ma anche del presente accusa lo Stato di Israele per i suoi comportamenti nei territori occupati ma lì sempre si va a parare una scritta un oltraggio anzi se posso fare un complimento al nostro paese è quello che in Europa ne ha di meno ma è curioso perché ogni volta diciamo beh abbiamo fatto il giorno della memoria abbiamo celebrato adesso è così è come se ci fossimo lavati la coscienza poi passa un giorno passa due giorni in questo caso il giorno prima ecco che rispunta è una cosa orribile e io non vorrei dover morire pensando che sia un male incurabile mi piacerebbe che fosse trovata una forma di profilassi una forma di un vaccino un vaccino senti il comune di Verona questa settimana ha dichiarato e vorrei intitolare una via a Giorgio Almirante che ricordiamo è stato il leader del movimento sociale oltre che anche lui uno della Repubblica di Salò contemporaneamente è stata deliberata la cittadinanza onoraria di Verona a Liliana Segre la quale però ha detto mi spiace ma queste due decisioni io le considero incompatibili secondo te ha ragione la Segre? certo che ha ragione la Segre sono i tempi adesso voglio dirti io sono di famiglia ebraica sono di tradizione anche mio padre che tu hai ricordato combattente antifascista però posso anche capire che un paese dedichi una via ad Almirante perché la vita di Almirante è stata anche un dopo non voglio entrare in questo ma trovo indecente dare la cittadinanza alla Segre e poi mettere nello stesso tempo una via ad Almirante perché c'è un messaggio subliminale come di compensazione ho fatto una cosa ne faccio anche un'altra e che cavolo ecco perché l'antisemitismo volevo dare una via ad Almirante per farlo ricopro dietro la Segre e allora la protesta di Liliana Segre che è una protesta che condivido al 101% è contro l'essere usata come specchietto delle lodole per poi dare una via ad Almirante questa è veramente una cosa terribile al meglio non averla quella cittadinanza onoraria ti faccio ascoltare l'audio di una famosa canzone la storia siamo noi siamo noi padri e figli siamo noi bella ciao e partiamo la storia non ha nascondigli allora oltre a tutte le altre tue mille vite ce n'è anche una di professore universitario tu eri l'assistente di Renzo De Felice forse il più grande studioso italiano del fascismo e hai fatto tu l'esame a un giovane studente che si chiamava Francesco De Gregori sì in quanto tal mi sento coautore di questa canzone quindi io hai contribuito di farlo negli anni che sono passati da allora siamo rimasti molto amici però devo trovare il coraggio di chiedergli il compenso perché lui visto che questa sera diciamo che ci sta ascoltando glielo mando come messaggio in diretta era uno studente era uno studente bravo bravo come studente ma c'era un particolare che io allora non conoscevo che lui aveva uno zio che era stato ucciso a Porzuz un celebre massacro pieno di ombre partigiani rossi che uccisero partigiani bianchi sloveni bianchi quindi cattolici cattolici e questo dramma che pesava nella storia della sua famiglia non gli era indifferente fin da ragazzo aveva una sensibilità simile a quella di Pierpaolo Pasolini anche lui aveva un fratello Guido ucciso a Porzuz e mi colpì un ragazzo che non era già celeberrimo come sarebbe diventato poco tempo dopo però insomma era già abbastanza conosciuto che aveva questa delicatezza io penso che la forza di Francesco De Gregori sia di avere di avere qualcosa di più sensibile di tutti gli altri esseri umani che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo e secondo me il pubblico lo sente lo riconosce ed è grazie a quell'esame è andato bene sia chiaro ti ricordi il voto ma credo che sia stato un voto pieno sia stato 30 adesso e guarda qua mandiamo qualche nota di una canzone di De Gregori il fuoco di Salò che è proprio dedicata all'episodio che stavi raccontando che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata in una grande giornata si muore la musica ci porta inevitabilmente a parlare a Sanremo di Sanremo perché Paolo Mieri che tutti immaginate un grande intellettuale e lo è ha però un'altra parte di sé estremamente pop io ricordo quando era il mio direttore che i capi redattori entravano nella sua stanza nei giorni più delicati di mani puliti immaginandolo curvo dietro Libroni e invece lui stava guardando in televisione i ragazzi del muretto di cui lui era un fan e mi diceva sai direttore guarda i ragazzi del muretto sembrava una cosa proibita allora andiamo a scoprire che tu sei un grande esperto del festival di Sanremo quindi ti abbiamo preparato un piccolo quiz storico guarda che non è vero però dicono così vediamo cominciamo dalla prima domanda concorrente Paolo Mieri si prepari questa è la famosa farfallina di Belen non pensare che sia questa la domanda sarebbe troppo facile quale famosa cantante fu al centro di una polemica relativa a un suo indumento intimo apparso durante l'esibizione di Sanremo questa è veramente facile fu Anna Oxa che aveva un perizoma nel 99 che sai tu allora io del festival di Sanremo fu un caso sono tutte cose di cui ma è dal 99 certo io dirigevo i giornali dal 90 quindi dal 90 io mi sono occupato avevi girato dai ragazzi del muretto giri sul lune c'era la Oxa ma io non è che guardavo mai il festival di Sanremo solo che queste cose esplodevano e avevano a che fare col costume erano delle cose beh col costume in effetti si intanga più che mai secondo video questo è un pochino più vecchiotto questo è Bobby Solo che nel 65 vince con se piangi se ridi però fece molto scalpore la sua esibizione per un motivo che non c'entra niente con la musica qual è? che ha gli occhi truccati ma li aveva già? come è? l'hanno precedente dove l'hanno precedente? adesso eh? nel 64 eri un estro parlamentare cosa ti occupavi dell'highline? io mi sono sempre occupato di tutto indipendentemente dalle fede che Paolo Mieri Paolo Mieri vi guarda però scusa non voglio rubarti tempo ma il fatto che un ragazzo vada in televisione nel 64 nel 65 truccato oggi è una cosa normale ma allora era clamorosa come evoluzione dei costumi e queste cose qua sono fondamentali nel giudicare una società tra l'altro nel festival precedente vabbè adesso non voglio tornare basta il corrigio la cinguetta eccetera vabbè terzo video vediamo il terzo video andiamo avanti fino alle 11 terzo video questo era una cosiddetta una canzone Italia Amore Mio del trio Pupo Emanuele Filiberto Luca Canonici che pena non dare giudizio non diamo i giudizi non si può commentare nulla neanche all'annuncio arrivarono in finale perché comunque il voto popolare è sovrano e per gli italiani questa è una delle tre canzoni più votate di quell'anno quale fu però il gesto di protesta che si verificò alla notizia della loro arrivo in finale lì a Sanremo ed era la prima volta che succedeva giuro che non me lo ricordo è storia è in Savoia roba tua è vero sei tutto di Anna Oxa e non sai nulla di no prendo atto so che ci fu una grande protesta perché esclusero mi sembra una canzone americagliane in quel festival però non mi ricordo che forma di protesta ci fu guarda gli orchestrali di Sanremo e io li abbia in gloria si come dire rovesciarono gli spartiti un applauso agli orchestrali di Sanremo abbiamo finito il tempo e a proposito lo direi abbiamo parlato del tuo libro Le verità nascoste abbiamo parlato di Savoia e ti chiederei come uso per l'ospite di Copertina di introdurre tu la nostra prima paroliera che questa sera è davvero una regina una regina della letteratura italiana la più grande scrittrice italiana anzi scrittrice limitativa il più grande scrittore in tutti i sensi italiani è Dacia Maraini e viva Dacia Maraini e viva Paolo Mieni grazie Paolo ciao grazie